Reinventare l'istruzione. Learning World, in associazione con WISE, un'iniziativa di Qatar Foundation. Benvenuti a Learning World. Questa settimana ci concentriamo sulla Finlandia. Questo paese scandinavo è noto in tutto il mondo per il suo eccellente modello educativo. Spesso delegazioni straniere visitano la Finlandia per capire il segreto del suo successo. Ed è esattamente quello che faremo in questa puntata di Learning World. Innanzitutto trascorriamo una giornata in una scuola di Helsinki per scoprire la filosofia alla base del sistema finlandese. Salla Korpela è una madre single, vive in un soborgo di Helsinki. Dopo la colazione le sue bambine, Aino e Eva, 11 e 9 anni, vanno a scuola. La loro giornata sarà breve, torneranno prima delle quattro. La Finlandia è il paese con meno ore scolastiche in Europa, ma i migliori risultati. Eccoci a scuola. Via le scarpe, si comincia con un tè e si chiama l'insegnante per nome. Gli allievi hanno lo stesso maestro, almeno per sei anni, un modo per rendere la scuola come una seconda casa. Insegno in questa classe da quattro anni ed è molto bello e interessante vederli crescere, imparare. Per me è il miglior modo di insegnare. È quasi come essere una seconda mamma. Alla base di una buona educazione ci sono bravi insegnanti, tutti con un master alle spalle, seguono rigidi corsi di formazione. La cosa piuttosto particolare in Finlandia è che gli insegnanti sono abbastanza autonomi in quello che fanno. Possono scegliere il materiale e i metodi pedagogici che vogliono. Hanno molta libertà nel loro lavoro. L'insegnamento non è come quello tradizionale. I bambini non imparano a memoria, ma attraverso la pratica, come durante le lezioni di scienza. È importante che i bambini conoscano l'ambiente e le differenti specie, animali e vegetali. Questo li aiuterà a rispettarli. Nelle scuole finlandesi la ricreazione è un elemento importante del processo di apprendimento. Ci sono vari intervalli durante le lezioni e anche in inverno i bambini possono giocare all'aperto. C'è grande fiducia tra maestri e studenti, come durante i pasti, quando i bambini possono servirsi da soli. Una buona parte del tempo è dedicata alla musica, allo sport e alle arti, in questa scuola come in tutta la Finlandia. Come una buona corale, il sistema educativo funziona all'unisono in tutto il paese. Mentre è difficile mettere in discussione la forza del modello educativo finlandese, non tutti ritengono che sia l'unico. Ho sentito il parere di Charles Liedbieter a Londra. Analista del mondo dell'istruzione ci spiega perché, secondo lui, questo sistema non è valido a livello universale. Il sistema educativo finlandese è considerato uno dei migliori al mondo, ma non credo che lei sia del tutto d'accordo. La Finlandia è un posto davvero straordinario, ma ci sono altri aspetti di questo paese che non sono altrettanto impressionanti, che rendono difficile trovare qualcosa da copiare. È una società di piccole dimensioni, molto consensuale e omogenea culturalmente, per cui non si può pensare che sia l'unico modello da seguire. È un modello molto efficace dal punto di vista dell'insegnamento, dell'apprendimento, ma non è necessariamente l'unico o il miglior modello per perfezionare l'istruzione. Ma ci sono alcuni aspetti del sistema educativo finlandese che possono essere applicati a un mondo più ampio, ad altri sistemi educativi. Per esempio, i finlandesi stimolano l'autonomia in classe, la creatività, l'innovazione. Come si può applicare tutto questo su ampia scala? Credo che ci siano elementi molto positivi nel sistema finlandese. Quello che si può imitare è il buon livello degli insegnanti che sono molto qualificati. Viene scelto solo il 10% delle persone che si candidano e si tende a preferire chi usa il tempo in modo creativo per ottenere risultati migliori con gli studenti, per cui in termini di insegnamento e apprendimento è difficile fare meglio. Alcuni finlandesi che hanno fiuto per gli affari hanno pensato di esportare il loro modello nel mondo, prendendo delle idee e integrandole. Cosa ne pensa? Credo sia una buona idea perché nel mondo c'è bisogno di modelli educativi efficaci e la Finlandia possiede un grande modello. Quindi ci sono cose che si possono vendere e fornire ad altri per quanto riguarda la formazione e la gestione degli insegnanti, l'organizzazione delle scuole. Ma in Finlandia la cultura dell'insegnamento dipende in gran parte dal passato del paese, una cultura che rispetta e promuove l'apprendimento, una cosa difficile da procurarsi. Si tratta di cose che non si possono semplicemente impacchettare come prodotti. L'educazione è qualcosa di più complesso. Nonostante la reticenza di Charles Liedbieter, la reputazione della Finlandia genera un'elevata domanda per l'esportazione del suo modello. È il tema del prossimo reportage. Questo è un tipico edificio scolastico di ultima generazione. Spazi aperti e silenziosi, angoli dove rilassarsi e dove riunirsi. È il modello finlandese che il mondo vuole copiare. Bassandosi sul modello finlandese, vogliono creare spazi di lavoro tranquilli, dall'accesso facile, che stimolino i ragazzi a riunirsi e a lavorare assieme. Heik Illuminen è un architetto che ha disegnato un edificio scolastico in via di costruzione ad Abu Dhabi e sembra che il governo voglia fare di più. Gli edifici scolastici devono servire all'apprendimento, nell'interesse dei ragazzi e non in quello dell'architettura. Non è Disneyland, è una scuola. La scuola di Abu Dhabi è stata adattata alla cultura locale. Ragazzi e ragazze non possono incrociarsi, ci sono aree per la preghiera. Sono state anche impiegate tecnologie finlandesi per la riduzione dei rumori. Nella prima scuola esportata è stata venduta solo l'architettura. Ora però si vogliono esportare anche le idee in una formula completa. L'idea è che le nuove tecnologie e le idee pedagogiche che abbiamo non puntino solo alla trasmissione del sapere da insegnante a studente, ma a rendere attivi questi ultimi, imparando a creare conoscenze assieme. La Finlandia ha capito all'improvviso di essere seduta su una miniera d'oro. Tutti vogliono attingere al suo modello, quindi perché non venderlo? Yu Hase Panen è l'uomo che fa il caso. Consulente per gli affari, ha vissuto la maggior parte della sua vita all'estero, studia i bisogni dei clienti e prepara soluzioni pronte per l'uso. Se possiamo cambiare il mondo, renderlo più democratico, con meno guerre, meno fame, grazie all'istruzione in cui noi siamo bravi, allora facciamolo. Esportiamo i valori educativi e l'istruzione stessa. È tutto per ora. La prossima settimana viaggeremo per il mondo esaminando il ruolo dell'istruzione nel formare i futuri leader. Potete trovare tutti i nostri reportage su euronews.net slash learningworld. Appuntamento alla settimana prossima con Learning World.